ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa della protezione animali ah no scusate volevo dire la rassegna stampa di scazzo al modellato mi sono un attimo distratto perché l'argomento del secolo secondo i media di tutta italia quantomeno e sicuramente anche d'america è la fake news di trump in diretta che dice gli immigrati mangiano cani e gatti a springfield il conduttore di abc lo smentisce dopo giorni e giorni ancora si va avanti con questa cosa evidentemente è la cosa che ha colpito di più i giornalisti se continuano a parlare adesso questo questo articolo in realtà ha già due tre giorni ma se voi andate sulla pagina sulle pagine facebook di repubblico o sui loro siti tutti i giornali ancora sono dietro a pubblicare notizie su notizie riguardanti questa cosa che sarebbe falsa come fanno a stabilire che è falsa non si sa però siccome a me piace essere fattuale e soprattutto usare un pochino la logica vi voglio far vedere qualche altro video sul argomento che secondo me importante ma non è solo l'argomento in sé è ragionare su come l'argomento sta venendo trattato dai media perché i media veicolano il pensiero e lo fanno tutti i giorni prima di cominciare però un paio di avvertimenti come sempre prima di tutto se non siete ancora follower di scazzo moderato vi invito a iscrivervi sulla pagina facebook o sul canale youtube e anche cliccare la campanellina per avere sempre gli aggiornamenti in maniera che li potete vedere perché lo sapete i socialist media non sono molto contenti di far girare i video di gente che non gli piace perché fa semplicemente vedere la realtà la narrativa piace più della realtà le chiacchiere e i finti fact check piacciono più della realtà siamo sotto elezioni e quindi va bene anche continuare a perorare bugie spuntandosi da soli perché ad un certo punto le persone normali equilibrate di testa poi seguiremo tutto il ragionamento arriveranno a dire ma se i giornali mentono con questa facilità forse non è il caso di prenderli troppo sul serio ora faccio secondo avviso adesso vi farò vedere cose molto brutte ok quindi se siete persone facilmente impressionabili se avete problemi di ansie se siete degli animalisti convitti che non riescono neanche a immaginare certe cose vi invito a fermare qui il video adesso perché la realtà è brutta quello che non quello che non capiscono certe persone è che bisogna imparare ad accettare la bruttezza della realtà altrimenti non vivi nella finzione e vivere nella finzione è molto peggio che saper affrontare la realtà ok vi do gli ultimi tre secondi spegnete il video se siete persone che rimangono impressionate 1 2 3 andiamo avanti non succede non succede sono fake news in diretta trump dice un sacco di bugie un sacco di bugie peribian the haitian immigrants are indeed eating animals let me tell you something about these people io vengo dai caraibi e vi dico che è assolutamente vero che gli haitiani mangiano gli animali che trovano per la strada non solo raccolgono e si fregano gli animali per mangiarli ma anche per fare straguereria forse i bravi democratici finti giornalisti che imperversano in tutte le redazioni d'italia ed occidente si sono dimenticati di far notare i loro lettori che haiti è la capitale mondiale del voodoo voodoo purposes understand this if you don't want to take my word for it go out there meet a haitian talk to them about it this is not something they aren't proud of se non se non credete a me fatevi le vostre ricerche andate andate in giro per la strada andato a springfield parlate con voi caetiano perché loro sono fieri della loro cultura it's their culture they eat these animals and they use the blood and bones of these animals for voodoo loro mangiano gli animali e poi usano sangue e le ossa per riti voodoo this is not a joke non sto scherzando are here illegally all it is a she gave them a temporary protection over a hundred thousand of them but here's the thing for good luck purposes they will harvest cats they will use the blood and the bone of these cats va bene qui ripeto di nuovo che ce ne sono centomila arrivate ultimamente grazie alle politiche migratorie fichissime del partito democratico il quale comunque li mantiene quindi non si capisce come ci si sta arricchendo ma insomma si parlano solo quindi di cibo e di anche riti voodoo non succede non succede della sola parte non succede neanche in italia questo signore in italia ha pensato bene di farsi un barbecue per la strada con un gatto non succede non succede non succede non succede mai da nessuna parte non succede finte finte tutta è tutta disinformazione trampista vediamo questo vedete cosa sta facendo sta cucinando un gatto lo vedete adesso mi da mi da anche fastidio far vedere sta roba però io devo far vedere perché altrimenti i poveri di spirito credono che i giornali ti raccontano la verità le fake news di trap in diretta gli immigrati mangiano coni e gatti a springfield sono le fake news di tra allora questo è un tutorial fatto da un haitiano che ti spiega la ricetta la ricetta del gatto alla haitiana il gatto ha tagliato il collo adesso lo pulisce per bene poi fra un po gli toglie l'interiore adesso di l'interiore ha tolte non ve le faccio vedere ma non succede non succede non succede è falso quello che mi di quello che vedete coi vostri occhi è falso quello che sentite con le vostre orecchie è falso la logica la logica che ti dice che tram non si è mettato niente perché tram ha raccontato cose che si sono viste nelle televisioni locale springfield ci sono decine di persone che hanno raccontato di aver visto animali ocche e papere portate via dai laghetti o gatti raccolti per la strada e mangiati quindi c'è anche una causa temporale logica causa effetto non è che tram si è inventato una cosa e poi i trumpisti hanno iniziato a raccontarla per coprirlo è il contrario trump ha detto quello che ha visto raccontare da altre persone ma la logica non esiste più quindi voi dovete abbandonare la logica il vostro pensiero lo dovete abbandonare dovete abbandonare quello che vedono i vostri occhi lo vedete questo questo gatto qui che sta bruciando non è vero non è vero siete stupidi se voi pensate di aver visto quello che sono facendo vedere siete stupidi le vostre orecchie quando qualcuno vi dice qualcosa non ci dovete credere voi dovete credere a quello che mi dice la repubblica il corriere della sera il fatto quotidiano qui addirittura c'è un adesso non ve lo sto a far sentire perché si sente abbastanza male però questo qui potete ve lo potete cercare ve lo ascoltate poi direttamente ok questo è un giornale si chiama the federalist ok che ha pubblicato un audio di una polizia perché sapete della polizia perché sapete che quando si chiama credo anche sia uguale anche in italia anzi mi sono convinto quando telefona la polizia tutte le telefonate vengono registrate bene questo è un audio del 26 agosto quindi molto prima del dibattito fra kamala eris e trump in cui c'è un tizio che sta andando al lavoro e ha becchi e ha visto degli immigrati che stavano raccogliendo delle ocche dei all head geese in their hand che stavano prendendo le ocche dal parco erano appena venuti fuori dal parco con delle ocche in mano e tenevano la testa in giù chissà cosa stavano facendo le portavano dal veterinario perché questi ragazzi buonissimi portatori di cultura sono hanno l'occhio esperto riconoscono il volo quando no che si sente male magari c'è un po di sciatica così dicono no l'oca c'ha la sciatica io la porto dal veterinario quindi fre non stanno prendendo illecitamente l'oca dal leghetto bensì stanno andando dal veterinario dovete capire la mentalità che c'è dietro questa roba qui allora adesso sentiamo questa ragazza ok sentiamo questa ragazza mio padre è immigrato da haiti negli anni sessanta e ha detto che anche se lui non aveva niente a che fare con certi tipi di atteggiamenti adesso con mio padre non ho più rapporti lo voglio specificare ma in tutta la mia infanzia sono stata con lui ok la maggior parte negli abitanti dell'isola secondo mio padre un haitiano raccontato dalla figlia di origine italiana la maggior parte degli abitanti dell'isola praticano il voodoo e quindi mangiano gatti per due ragioni vediamo quali sono le ragioni numero uno sopravvivenza perché questa è la nazione più povera dell'emisfero occidentale non è come qua dove puoi andare magari alla caritas o al mcdonald e e mangi rimaneci con prezzi molto ragionevoli la gente negli stati uniti fa fatica a immaginare che queste cose accadono veramente ma è così chi è che fa disinformazione ma poi è una disinformazione di una di una stupidità di una povertà mentale perché perché voglio dire è normalissimo è normalissimo ci arriva anzi scusa voglio voglio fare outing voglio fare outing voglio denunciare mio nonno buonanima ok indovinate cosa mi ha raccontato quando ero piccolo mio nonno di padovano buonanima che ha fatto la seconda guerra mondiale e si è trovato in situazioni dove faceva la fame vera che ha mangiato i gatti lui ha detto sì sì li ho mangiati e jimmy da piccolo gli fa nonno ma com'era il gatto e lui mi ha risposto buongiorno sono sono appena diventato razzista verso i padovani perché ho detto che mio nonno si è mangiato i gatti quando aveva fame qualcuno anzi troppi in occidente hanno dimenticato la logica se uno vive nel posto più povero dell'emisfero occidentale usando le parole di questa ragazza è abbastanza normale che qualsiasi essere vivente commestibile gli passa sotto il naso era già abituato a mangiarlo e quando cambierà nazione se si trova di nuovo tutto sommato in una situazione in cui ma ci sono dei gatti lì adesso ne tiro su uno al parco ci sono quindi c'è un lago con una decina di cigni il cigno è bello grosso me ne prendo uno vi stupisce questa cosa pensate che sia impossibile questa cosa con come fate a escludere a priori che questa cosa succeda adesso non sto dicendo che sui 10 15 non so quanti sono milioni di immigrati che ha lasciato entrare l'amministrazione Biden Harris in America tutti quanti passano le giornate andando a caccia di gatti ma dire non succede è impossibile Trump si è inventato tutto è illogico è falso vuol dire che siete scollegati dalla realtà avete dei problemi a sinistra avete dei problemi serissimi uno puoi dire vabbè dai magari esagerato oppure voglio specificare magari il solito bonista terzomondista dirà però mi raccomando specifichiamo che non tutti quanti perché quello è il problema alla fine il retro pensiero è sempre quello lì cioè il retro pensiero è che mangiarsi il gatto a livello l'estetico di immaginazione per per la donnina occidentale che vuole sentirsi buona e politicamente corretta è inaccettabile quindi legare un'immagine di qualcosa che è inaccettabile all'immigrato che per definizione nel mondo regressista di sinistra è un portatore di cultura e di arricchimento le due cose insieme non le puoi mettere quindi l'unica soluzione è dire che è completamente falso che non è mai esistito che tutto quello che potete vedere con i vostri occhi potete sentire con le vostre le vecchie basta fare qualche ricerca possibilmente su x dove dove queste cose magari non vengono censurate non esiste ok la realtà per i fanatici non esiste mai è sempre quello il concetto è lì il problema sostanziale bisogna cercare di farli di far riatterrare sul pianeta terra tutti quelli che sono partiti per la galassia arcobaleno di zucchero filato il problema come dico sempre è che secondo me ormai sono sono talmente tanto fuori da un'altra parte che non c'è modo di fare una discussione quindi l'unico modo per vivere in pace serenamente tutti quanti insieme è quello di dividere l'accidente in due parti da una parte quelli che non credono più alle proprie orecchie non credono più i propri occhi non usano più la logica dicendo ma mi sembra abbastanza sommato che può succedere magari non sarà un evento che succede tutti i giorni in tutta america però insomma considerando proprio poi lo specifico la specifica cultura di eitido che è la capitale del voodoo forse ci sono una serie di ragioni per cui può può essere non dire che ha completamente inventato che una fake news di trump forse è un pochino troppo che dite no 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 un ragionamento del genere assolutamente inaccettabile ok bene mi dispiace di avervi fatto vedere delle cose orribili però visto che i giornali intignano ancora tutti i giorni oggi con questa cosa della fake news trump le fake news in realtà è vero è ovvio è sotto gli occhi di tutti succede da tempo non è che se l'ha inventato trump e poi tutti gli altri sono andati dietro è il contrario succedeva la gente ha iniziato a parlarne e trump l'ha poi manifestato in pubblico in diretta durante il dibattito con camaleon harris camaleon allora io adesso ho una serie di nomignoli secondo me camaleon non è male cioè camaleonte perché cambia idea su tutto cambia colore su tutto quindi camaleon harris per me suona molto bene ditemi voi come la pensate su camaleon harris e su tutto il ragionamento che ho fatto se vi è piaciuto questo video date un cazzottone al pulsante mi piace e fatelo girare così magari quindi convinti che siano tutte fake news perché semplicemente non hanno voglia di spendere 30 secondi della loro vita della loro capacità di ragionamento per fare un attimo qualche connessione logica su quello che tutto sommato è abbastanza normale non credo di avere tutto niente di sconvolgente noi ci vediamo al prossimo video state informati ciao